Allora, ogni promessa è debito, è un debito, allora torno da Rossella Buroni a proposito della denuncia che faceva del sistema del clima Emilia-Romagna Guido Castelli prima, ma io penso che gli imprenditori abbiano bisogno di una classe politica che risolve i problemi e che sappia anche affrontare i cambiamenti in atto, lo dico perché l'Emilia-Romagna è anche però un luogo, una terra di grande innovazione produttiva, penso a tutto il fronte ambientale, lì ci sono tantissime imprese che hanno già investito sul fronte ambientale e che stanno crescendo, sono quelle quantomeno meno in crisi, quelle che hanno, come dire, si stanno riconvertendo. Allora, a queste imprese gli va data stabilità, certezza, un riconoscimento, cioè il fatto che degli investimenti che vengono fatti, come dire, vengono poi riconosciuti. Lo dico perché prima si citava la plastic tax. A me fa un po', in realtà uso la parola sorridere, però un po' mi fa rabbia invece la politica che scopre che noi produciamo plastica e siamo i maggiori produttori di plastica monouso. Allora è evidente che tu devi ad esempio recepire la direttiva europea, ed è per questo stare in maniera competente e continuativa in Europa per difendere i nostri interessi, ma li devi aiutare per riconvertire i macchinari necessari a cambiare il materiale che viene prodotto sostanzialmente. È di questo tipo di risposte che c'è bisogno l'imprenditore italiano, mi permetto di dire dal mio osservatorio, e questo prescinde abbastanza dal colore politico, ma dalla capacità di governo, per cui i cittadini che votano in Emilia-Romagna si dovrebbero ricordare, e l'invito a farli, che non è che Salvini andrà a fare il presidente della regione Emilia-Romagna, ci andrà la Borgonzoni, che è uno che sta dimostrando una larga incapacità ad affrontare questi temi ed argomenti. Quindi non vorrei che per la voglia di cambiamento si perde invece quella stabilità e quella occasione che l'Emilia-Romagna rappresenta per tutto il paese, perché un'altra cosa che non si dice è che nella nazionalizzazione delle elezioni dell'Emilia-Romagna c'è un dato vero, che l'Emilia-Romagna è una delle regioni che funziona meglio in Italia, quindi è bene che continui a essere ben governata, perché conviene a tutto il paese questo è il dato. Allora, facciamo una cosa, voglio aprire a proposito delle parole di Rossella Muroni, che ci faceva riflettere appunto su tutta la partita della difesa dell'ambiente e della sostenibilità, che deve essere ambientale ma anche sociale, perché se no non c'è sostenibilità. No, volevo fare una domanda a Polagnelli, però prima vi faccio vedere quali sono i temi in discussione a Davos, perché anche Davos è un po' simbolo dei tanti argomenti importanti su cui ci si interroga, vediamo. Niente patè e caviale, ma solo cibo bio e a chilometri zero ramponi e antiscivolo per rinunciare alle limousine senza scivolare sul ghiaccio e se possibile, almeno per l'ultimo tratto, arrivare in treno con sconti e agevolazioni per i miliardari della Terra. D'altronde, in cima all'agenda del Forum Economico Mondiale quest'anno c'è il cambiamento climatico come fattore di rischio, perché pur sempre di economia si parlerà, per lo sviluppo di paesi e grandi aziende. Non sappiamo quanti dei 53 capi di Stato e di governo attesi qui accoglieranno l'invito a prendere il treno o useranno i consueti jet privati. Sappiamo di certo però che il presidente americano è arrivato con l'inseparabile Air Force One, che a impatto zero non è. Per lui il cambiamento climatico è una baggianata, ma se nel 2018 Trump tenne banco all'insegna di American First, oggi, con una procedura di impeachment appena consegnata al Senato americano, dovrà limitarsi a fare la parte del cattivo, duellando a distanza con la paladina dell'ambiente, Greta Thunberg. Insomma, dopo il capitalismo frenetico degli anni 80, la globalizzazione dei 90 e la grande crisi dei primi anni del nuovo millennio, la cinquantesima edizione del Forum Mondiale di Davos si confronterà su quello che tutti chiamano il capitalismo responsabile o sostenibile, fate voi, anche perché numeri alla mano lo scenario dei prossimi anni non è certo esaltante se il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'economia mondiale. Ci sono segni di stabilizzazione, ma una svolta ancora non c'è. Anche per l'Italia il futuro non brilla, più 0,2% di PIL quest'anno rispetto allo zero secco previsto ad ottobre, più 0,7% per il 2021. Insomma, niente di sensazionale, meglio parlare di clima. Eh, meglio parlare di clima, diceva Francesco Bardaro, peraltro c'è un altro dato che è stato diffuso alla vigilia del vertice di Davos per le Nazioni Unite, la disoccupazione globale salirà quest'anno per la prima volta da un decennio e peraltro mezzo miliardo di persone, parliamo sempre di dati mondiali, secondo le Nazioni Unite fatica a trovare un lavoro decente, decente si intende soprattutto dal punto di vista del salario di quello che si guadagna. Allora, vado da Paolo Agnelli, perché io metto sempre insieme, ma forse è una mia ossessione, tutta la partita che riguarda la sostenibilità ambientale con la partita che riguarda l'innovazione tecnologica, la transizione diciamo tecnologica. Io ho visto un'intervista che lei ha rilasciato l'altro giorno all'Eco di Bergamo, dove si parla ovviamente delle nuove tecnologie che hanno un grande impatto, come sapete, sulle aziende, sulle fabbriche, sul lavoro. E lei dice che le nuove tecnologie sono necessarie, ma non sufficienti a far ripartire l'economia. Non è che senza digitale non si cresce. Dice, io già ho visto questo film, si giudicano, si definiscono le piccole e medie imprese ignoranti, non innovano, non sanno cosa sia la digitalizzazione, non sono in grado di competere sui mercati internazionali. La realtà è ben diversa dai soliti luoghi comuni. Certo, non sempre le PMI riescono ad innovare, soprattutto se le banche, invece di finanziarle, mettono loro due dita negli occhi. Allora, io ho tutta questa premessa per chiedere a Paolo Agnelli una cosa. L'innovazione tecnologica, la robotizzazione, la digitalizzazione, insieme a tutte le misure per la sostenibilità ambientale, lasceranno morti e feriti dal punto di vista di posti di lavoro? Perché parliamoci poi senza infingimenti. Cioè, appunto, la transizione prevede dei sacrifici o no? Allora, il 4.0, e perciò è l'evoluzione, l'involuzione digitale, no, è fondamentale, è da fare, non ci si può tirare indietro. Però non è la panacea a tutti i mali, perché la politica ti dice 4.0 abbiamo risolto, innova e sistemiamo il problema dell'economia. Non è così. Oppure il discorso del clima, che è da fare, da andare a ricercare tutto ciò che è sostenibile, la sostituzione dell'energia verso quella, diciamo, non da fossili, da petrolio, eccetera, è da fare. E chiaramente qua ci siamo. Però limitare la enunciazione di questi due temi senza trascurare gli impatti immediati, non alla lungo, che arrivano. Nel 4.0 abbiamo il fatto che, è chiaro che nel 4.0 tu investi come azienda perché tu metti un robotico, un manipolatorio, tutto quello che va a fine a, diciamo, sostituire l'uomo, perché noi abbiamo un costo del lavoro tale che si investe per sostituire l'uomo. Cioè, 5 roboti ti lasciano a casa 30 persone. Lo si sa, ma affrontiamolo, non mettiamolo lì sotto il tappeto, perché anche i sindacati lo mettono. Solo per dire, sappiatelo, che se investiamo lì, e bisogna farlo, succederà che però ci sono delle disoccupazioni importanti che vanno ricollocate. Allo stesso discorso, un po' con una diversa sfaccettatura, il concetto di quanto riguarda investire per quanto riguarda, diciamo, l'ambiente e per quanto riguarda la sostituzione, dicevo prima, del fossile rispetto al solare. Cioè, che è da fare anche quello, ovviamente, anche per ragioni, ne parlavo prima, di ragioni di politica, perché quando ci sarà meno petrolio, ci saranno meno petrolieri in giro e anche la geolocalizzazione delle imprese che attualmente sono uscite, parlo di alluminio, per cui vado direttamente a un discorso che ci interessa, si sono trasferite immediatamente verso il Medio Oriente, dove ci sono gli scarti del petrolio che vengono bruciati, non so in che modo, ma che producono energia a costo zero. Allora, tutte le aziende produttrici di alluminio dell'Europa, perché sono nate dove? Sono nate dove c'era l'energia idraulica, dove c'erano le cascate, dove c'erano i fiumi, eccetera, verso la Norvegia all'epoca, sono arrivate, dopo 8 anni, ad arrivare a trasferire dove il costo di energia è zero. Perché sono aziende energiore, come si dice. Per cui cosa succede? Si porta via un sacco di manodopera e la si porta da altre parti. Per cui anche certe operazioni portano anche, hanno sensibilità, sono un ragionamento geopolitico anche dell'economia. Ma altra cosa che non bisogna dimenticare, trattando un tema ad ampi spazi, il concetto che oggi le bombe che si sganciano in una guerra economica sono i dazi. Sì. Sono bombe che bloccano, guardiamo cosa ha fatto Trump, ha minacciato di mettere alla Cina dazi sull'acciaio e sull'alluminio in modo esagerato, li ha messi, li ha tolti, li mette e non li toglie finché ha fatto un accordo importante in cui la Cina comprerà non so quanti miliardi, 200 miliardi. Ebbè, è già sistemato. Sono bombe, sono. E se lasciamo libero tutto, ognuno qui che siamo in tutte le nazioni, anche europee, sono tutte sovraniste perché tutte vogliono il bene della propria nazione. Guardiamo la Germania che è nel cuore dell'Europa che sembra che sia quella che, ma adesso che ha avuto un PIL zero, beh a questo punto ha cominciato a cambiare, a morbidire, a influenzare e facilitare. Ecco, grazie a questa reazione della Germania io penso che anche l'Italia potrà ambire ad avere un miglioramento. Dalla crisi, dagli scricchioli della Germania ricaviamone un vantaggio in qualche modo. Sì, perché si è elasticizzata rispetto alla flessibilità, rispetto alle regole europee, che ha fatto anche un mea culpa pubblico e si aprirà qualcosa di importante anche per l'Italia. Allora Matteo Ricci, insomma, come tutti ha visto, ha seguito le notizie di oggi, si attende a questo punto, a meno che non ci siano altre sorprese, un annuncio da parte di Di Maio. quanto può pesare, vedevamo lo spread addirittura, insomma, lo spread dà qualche segnale, qualche ripercussione, quanto può pesare sulla tranquillità del governo che insomma già ha qualche problema all'interno della maggioranza? Credo che il tormento interno ai Cinque Stelle è un dato di fatto ormai da diversi mesi, c'è una discussione interna profonda, del resto è una discussione che va al di là, diciamo, dalla vicenda di Di Maio, è una vicenda, una questione di carattere strategico. I Cinque Stelle erano nati con l'obiettivo di creare un nuovo bipolarismo tra loro e gli altri, tra gli antisistema e il sistema, questa era l'idea originaria. Nel momento in cui hanno accettato la sfida del governo, vincendo le elezioni del 2018, è chiaro che quel meccanismo si è incancrenato, si è incagliato ed è in qualche modo, invece si sta andando in questo momento politicamente verso un bipolarismo dove riemergono, non dico la destra e la sinistra, ma due poli alternativi che sono il sovranismo di destra rappresentato da Salvini e dalla Menù e dalla parte e comunque un polo riformista progressista con al centro il Partito Democratico. Quindi la discussione fra di loro è da che parte stare, questo è il punto, perché da soli non possono più stare hanno fatto un'esperienza di governo con la Lega che non è andata bene, oggi stanno governando con il PD, credo che su questo centinaia abbia ragione, credo che già la parte, fra virgolette, governista, diciamo, che fa riferimento a Conte nei Cinque Stelle, oggi già nei gruppi parlamentari dei Cinque Stelle, sia maggioritaria in questo momento. è chiaro che dopo il voto di domenica questo tema si approfondirà ancora di più, perché se questo governo deve durare, come tutti dicono, è evidente che deve avere gli obiettivi programmatici chiari, ma deve avere anche un'organizzazione politica, un'alleanza politica più coesa rispetto a quella di oggi. E' ancora più importante la tenuta del Movimento Cinque Stelle, adesso al di là delle correnti interne, delle divisioni. Io penso che il Movimento Cinque Stelle si trasformerà, non sarà più quello delle origini, sarà una cosa diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Allora, Marco Rizzo, sentiamo che peraltro il Partito Comunista corre in Emilia Romagna. Sì, in Emilia Romagna abbiamo un candidato, una donna, una lavoratrice, Laura Bergamini, lo facciamo perché queste due forze politiche, questi due raggruppamenti che venivano qua segnalati, sono di fatto le due facce della stessa medaglia, perché dal punto di vista del sistema economico, delle privatizzazioni, del ruolo delle cooperative, delle questioni vere, poi non si discostano così tanto. Uno può essere maleducato che suona il citofono, l'altro magari parla in maniera più compiuta, ma alla fine, nella sostanza, il modello economico scelto è quello. Il Cinque Stelle invece... Ma quando no, aggiungo questo elemento, perché adesso stava venendo il Cinque Stelle, quando Sansa dice il Cinque Stelle, però diciamo originalmente è un movimento nato con una visione della legalità molto forte, dei diritti. Ma il Cinque Stelle è un fenomeno quasi sociologico da vedere nella dinamica della politica oggi. I temi erano fondamentali per il Cinque Stelle ed erano anche giusti, dobbiamo dirlo. Il tema del lavoro, il tema del contrasto alla gabbia europea, il tema sulle spese militari, erano tutti temi fondamentali. E poi c'era un modo di essere. Il modo di essere è scomparso nel giro di un anno e mezzo. Era l'idea, cioè, che la vecchia politica, la casta, adesso hanno fatto tutto. Hanno i transfughi, hanno il leader che non si capisce se va via, hanno i caminetti. se noi prendessimo i nomi con cui si definiva la prima Repubblica e la seconda Repubblica nell'accezione più negativa e volessimo titolare quello che è successo in un anno e mezzo, la cosa è incredibile. Hanno preso 11 milioni di voti. Adesso sentivamo Conte che dice, ma Conte è uno che è stato con la Lega presidente del Consiglio. Mica è stato a fare l'uscera a Palazzo Chigi. E poi è presidente del Consiglio della esatta contrapposizione. Ma è una contrapposizione? E questo è il mio interrogativo. Per questo credo che serva una forza alternativa. Poi sui temi, allora, il 5 Stelle è caduto sui temi perché i beni comuni, cioè l'idea anche del protagonismo delle persone, pensiamo all'acqua, all'acqua pubblica, ai referendum che ci sono stati. Adesso il 5 Stelle è alleato. Prima era alleato con la Lega che di questi temi non gliene fregava nulla. avevano altre idee, altre impostazioni. Adesso si alleva col PD. Ma il PD su questi temi è il più conseguente alla dinamica della globalizzazione capitalistica. E quindi, come dire, vivono uno strattonamento da una parte all'altra e poi un comportamento che è proprio totalmente antagonista a quello che erano le origini. La gente li ha votati perché non li voleva vedere così, non voleva vedere così la politica e loro in brevissimo tempo sono diventati tutto quello che la politica in negativo per quella larga parte dell'elettorato rappresentava. Allora, così, diciamo, il rifletto su quello che diceva Marco Rizzo, un po' questo mi farebbe pensare che il movimento delle origini, no? In qualche modo allora è condannato a fare opposizione perché quando si governa poi molte cose si vedono in modo diverso. Non lo so, mi è venuta spontanea questa riflessione. guardate, poi contano i destini individuali, adesso qua c'è un savoir-faire, le persone che sono con noi sono tutte persone di grande conoscenza della politica, ma più il governo, lo vogliamo dire, più il governo va male e più c'è il rischio di andare a votare e più tutta questa massa enorme, il 5 Stelle ha il 35% di tutti i deputati, ha il 70% del governo, della coalizione di governo. Questi non sanno più dove andare, ma il governo Conte ha una cosa in tasca, la sicurezza di governare, perché più vanno male e più questi non vogliono andare a casa. Ci sono ancora tre anni e mezzo, hanno ognuno di loro una sedia lì con una valisa da 600 mila euro di retribuzione per i prossimi tre anni e mezzo. Ah, le famose poltroni. Dall'altra parte c'è una sedia con un buco dentro, chi è che si va a sedere in quella sedia lì? Nessuno. Allora, adesso torno a salsa, però prima mettiamo un altro ingrediente perché siamo agli sgoccioli della campagna elettorale, soprattutto in Emilia Romagna ma anche in Calabria. Salvini peraltro oggi credo che chiuda la campagna elettorale proprio in Calabria. Ieri invece ha continuato a battere palmo palmo l'Emilia Romagna, era Bologna e si è reso protagonista di un episodio a cui faceva scendolo prima Marco Rizzo al quartiere mi pare Pilastro dove ha citofonato ad una famiglia che le voci di popolo, anzi le voci di credo una simpatizzante leghista indicava come famiglia di spacciatori. Vediamo. Qui in Fattini a chi non c'è? Abita qua? Spacciatore turisino? Non è occupante abusivo? No, però non tanto voglio attivare però non lo posso non andare. Hai regolare? Sì, sono regolare. C'è il nome sul cittofono? Qual è? Eh, questo spacciatore. Che cosa sta facendo? Faccia la telecronaca. I residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano. Che cosa vuol dire? Eh, io faccio vedere. Buongiorno. Buonasera. Lei è il primo piano? Ci può far entrare cortesemente? A casa mia? Eh no, a casa mia. Sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto il giusto e sbagliato. Ha attaccato. e questo qua è tunisino? E chi è che faccia il padre? Il figlio. Ah, il figlio? Sì, ma anche il padre in intanto perché vengono a conare i campanelli. Una bella famiglia. Sì, sì, sì. Vabbè, scriviamo due righe tanto alla polizia carabinieri può venire il problema che poi gli fanno uscire dopo un quarto d'ora. Vabbè, signor... Buongiorno, buonasera, io volevo entrare da lei. Ma no, voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia e qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate. Non c'è nessuno. E lei chi è? Scusi. Come non c'è nessuno? E lei chi è? Sto parlando con un fantasma, mi scusi. Beh, insomma, penso che per Conte, Renzi, di Marezingaretti perdere in Emilia Romagna sarà una batosta non da poco perché governa qua da 70 anni e io in un'altra sento una voglia di cambiamento. Non so, chiedetelo a loro, io so cosa faremo noi, che da lunedì saremo in ufficio sia in Regione Calabria che in Regione Emilia Romagna a sistemare tutto quello che non fa e avremo 5 anni di lavoro davanti. Allora, Salvini, campagna elettorale tutto legittimo, sente il profumo di vittoria, dice saremo da lunedì già a lavoro sia in Calabria che in Emilia Romagna insomma, quindi a governare le due regioni. Prima di tornare da Centinaio voglio fare un passaggio con Ferruccio Sansa. Allora, intanto diciamo subito il Partito Democratico ha detto quella di Salvini è stata una cialtronata andare a citofonare. Ecco, tu guardando, anche riguardando tutti insieme queste immagini che cosa pensi? Ma secondo me è più che una cialtronata è una cosa ben più grave. Immaginiamo se fosse una famiglia che magari non sono spacciatori se il figlio gli suonano dicendo che il suo padre è uno spacciatore. Sono dei metodi che a me ricordano un passato italiano che vorrei non ripercorrere. Però allora io inviterei la gente ad andare a casa di Salvini a suonare e dire scusi. Dicono che nel suo partito sono spariti 49 milioni di euro. È vero o non è vero? Ecco, magari forse questo. Io mi chiedo come mai il PD a ogni peso spinto della Lega non ricordi questo? Questo è un partito che è accusato di avere in sacoccia 49 milioni di euro miei e vostri. È a base di tutto. Lasciamo che questo tizio parli e continui a farla morale agli altri. c'è una questione a base di tutto. Dove sono questi 49 milioni? Aggiungo una cosa. Ieri sera ho guardato un programma televisivo in cui c'erano alcuni leader del Partito Democratico ma ha colpito moltissimo perché hanno parlato tutto il tempo di Salvini. Ma io mi chiedo bisognerebbe fosse un leader del PD direi basta adesso con questo tizio perché dobbiamo parlare sempre di lui? Cosa ha fatto la centro-sinistra in Emilia-Romagna? Come si vive in Emilia-Romagna che è una regione che intesta tutte le graduatorie di qualità della vita in Italia e in Europa e invece continuano loro stessi a lasciarsi imporre il tema e parlare di Salvini? Ma come fanno? Non c'è uno scatto d'orgoglio? Anche puntare sull'orgoglio degli emiliani accidenti e si lasciano dipingere l'Emilia-Romagna da Salvini come se fosse una caienna. Questa è la regione d'Europa dove si vive meglio probabilmente è la regione d'Italia dove si vive meglio è la regione che è riuscita a coniugare un progressismo con la solidarietà più di altre regioni del nord che sono come la Lombardia più del Veneto Emilia in questo è un modello europeo e cosa parlano i leader del PD quando li chiamano in televisione? Bisogna parlare solo di Salvini Sansa grazie a cosa? Grazie al grande lavoro che ci fu nel dopoguerra dal Partito Comunista italiano sono d'accordissimo perché quell'Emilia lì adesso sta cambiando in negativo possiamo dirlo perché il Partito Democratico e una certa sinistra hanno abbandonato quei valori certamente sono partiti da molto in alto dal punto di vista del progresso e così come in Toscana le privatizzazioni cominciano ad andare avanti il grande movimento cooperativo le cooperative oggi lo vogliamo dire cosa sono? Sono sfruttamento del lavoro privato al 90% la grande idea della cooperazione dove avevi i soci lavoratori per davvero oggi sfruttano la gente peggio dei privati intanto voglio dar conto di quanto ha detto stamattina Salvini a proposito di questa citofonata ha detto gli spacciatori devono stare in galera non a casa quando una mamma mi chiede aiuto una mamma che ha perso un figlio per droga faccio il possibile mettendomi in prima linea anche se qualche ben pensante dice Salvini protesta pubblicità ripartiamo dal centinaio quando i 5 stelle parlano di cabina di regia per indicare l'assemblea congiunta dei loro parlamentari o monitorare la legge di bilancio usano un termine che suona un po' da prima repubblica di solito però il movimento mostra una certa inventiva un suo lessico perché si sa i privilegi sulle cose più difficili da mollare per i nostri cari politici della casta in principio fu casta è la parola con cui i 5 stelle conquistano la scena politica in molti cuori italiani nei momenti in cui si impossessano di questo termine titolo di un libro di Sergio Rizzi e Gian Antonio Stella contro i politici casta risuona dappertutto gli stipendi dei parlamentari le loro pensioni vitalizie autoblu tutto viene messo sotto accusa al consiglio regionale lombardo compare lo spray anti-casta è l'anti-casta il lessico e di conseguenza l'agenda politica dei 5 stelle si impongono alle altre forze politiche nessuno di noi difende la casta la metto anche di là strettamente collegato alla lotta alla casta ecco allora il restitution day il giorno in cui si festeggia a favore di telecamere la restituzione di una parte dello stipendio da parte dei parlamentari grellini l'ultimo il 6 febbraio 2019 poco meno di un anno dopo è proprio sulle restituzioni che il movimento si ritrova in difficoltà sono 16 milioni di euro che ci spezzerebbero per legge oggi sono orgoglioso di presentarvi la numero uno la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica Italiana reddito di cittadinanza ecco un'altra definizione un'altra parola d'ordine grellina che diventa il punto fondamentale della campagna elettorale prima ed è il primo governo a cui partecipa il movimento poi a chi spetta mettere in pratica le misure contenute nella legge oggi inizia una rivoluzione nel mondo del lavoro mettiamo un tassello fondamentale che è quello dei navigator gli italiani familiarizzano con un nuovo termine navigator appunto ad esempio avete sentito parlare dei navigator tutto perché chiamarli vogliate le invenzioni lessicali non si arrestano quando i 5 stelle incontrano le prime difficoltà se la leadership di Luigi Di Maio mostra qualche segno di inclinatura ecco arrivare i facilitatori membri del movimento che devono affiancarlo per risolvere problemi protagonisti di quest'ultima fase i probi viri il gruppo ristretto che prende le decisioni più importanti espulsioni per esempio come quella di Gianluigi Paragone i probi viri dovrebbero essere giusti cioè probi per il futuro ci saranno novità sono delle sorprese non posso dire però io credo che ci sarà una rivalutazione di tutto lo spirito nostro si recupererà sicuramente è una questione di spirito di umanità di parole le famose parole guerriere dentro di noi qualche cosa è rimasto e verrà di nuovo fuori ancora più potente secondo me insomma la sorpresa non so se sia etichettabile come parole guerriere appunto il passo indietro di Di Maio a proposito di quello che diceva Beppe Grillo allora Dario Galli vengo da lei prima dicevo che Renzi dice il Movimento 5 Stelle ha iniziato una discesa inesorabile le chiedo lei che ci ha lavorato e ha conosciuto bene gli esponenti del Movimento 5 Stelle e anche Di Maio cosa pensa e come Salvini come il suo leader diciamo rende l'onore delle armi a Di Maio è tutta colpa di Grillo? Beh diciamo che da una parte ma non solo da adesso insomma credo che il Movimento 5 Stelle abbia comunque esaurito da tempo la sua spinta propulsiva e in qualche modo la strada imboccata è quella del declino definitivo diciamo che Di Maio sicuramente ho sentito anche quasi tutto non tutto perché un pezzo l'ho perso il suo intervento di ieri su alcune cose ha fatto anche una sorta di mea culpa postumo o come dire di ritrattazione di alcune cose che forse sono quelle che hanno fatto perdere maggiormente consenso al Movimento una volta che da movimento di semplice protesta è diventato movimento di governo ma come ha detto Salvini credo che veramente la cosa che sta veramente mettendo la pietra tombale sul Movimento sia questa collocazione politica sostanzialmente a fianco del PD e in questo senso se personalmente così mi sento di fare con tutto rispetto perché giustamente come appena stato ricordato ognuno a casa sua fa quello che vi tiene più giusto e ci mancherebbe altro però quello di Di Maio di aver in qualche modo avvallato troppo velocemente il passaggio all'Alleanza del PD l'anno scorso secondo me concludendo quella fase appunto di declino irrimediabile che in qualche modo aveva già iniziato a manifestarsi credo che anche se su qualche battaglia tipo il discorso della prescrizione è il PD che incredibilmente sta tenendo una posizione subalterna però devo dire che il 5 Stelle con questa alleanza col PD ha proprio imboccato la strada più sbagliata da un punto di vista politico e credo che questo si la pagherà però in questo senso come ha detto Salvini credo che la responsabilità più di Di Maio che credo che all'interno dei limiti che comunque aveva come esponente di un partito che comunque ha delle responsabilità probabilmente avrebbe fatto scelte diverse ma credo che l'imprimatur di Grillo l'imposizione a fare l'Alleanza il governo col PD sia stata veramente il passaggio più grave per il movimento ma lei crede che ci siano davvero queste due anime cioè che questo movimento post ideologico poi di fatto abbia una parte che insomma si trova a proprio agio a dialogare a stare insieme al PD per esempio in questo governo una parte tra cui forse c'era proprio Luigi Di Maio invece è più sovranista e si è trovata bene nell'esperienza che ha fatto insieme a voi è così? Beh diciamo che il movimento 5 Stelle è sicuramente ripeto con massimo rispetto da osservatore esterno è un movimento come dire composito c'è dentro un po' di tutto perché inizialmente diciamo il collante è stato l'entusiasmo per questa protesta a prescindere e poi quando entri nel merito delle cose ovviamente alcune cose le devi fare fatemi andare a Marta Fana se è un tweet è un tweet dove andare a Marta Fana visto che la prescrizione è così com'è l'ha votata la Lega insieme a 5 Stelle Dopo diritto di replica al primo passaggio Dopo sì Allora vado da Marta Fana prima però facciamo vedere a proposito di quello che è successo il primo cartello di termometro politico cosa pensa del passo indietro di Di Maio e questo passo indietro permetterà il rilancio del movimento 5 Stelle il cartello numero uno ecco è apparso allora Borrelli in effetti no perché oramai diciamo per una buona fetta dell'elettorato questo è assolutamente irrilevante il problema non è la guida chi guida il partito sono proprio diciamo le idee che secondo molti di questi direttori insomma non risultano essere efficaci insomma la prova di governo del 5 Stelle per molti ha dato un esito negativo infatti è chiaro avevano avuto grande fiducia e poi però buona parte di questi voti sono andati via sì c'è un 16% che dice che è meglio una guida collegiale questi sono in gran parte gli elettori del movimento 5 Stelle poi dice no perché nel 5 Stelle non ci sono leader alternativi a Di Maio questi sono i fan di Di Maio invece l'altro no perché non ci sono leader alternativi a Di Maio allora adesso Marta Fana mi dirà quello che pensa però voglio farle una domanda precisa perché lei è molto attenta ai temi appunto economici e del lavoro Di Maio dice giudicatemi non per x mesi di governo ma al termine di una legislatura quando si potranno insomma vedere alcuni risultati qualcuno oggi ha scritto il problema del movimento 5 Stelle è che la base i militanti chi credendoci chi magari ha bagliato da alcune cose vuole tutto e subito e le cose tutto e subito soprattutto in questioni così complesse come quelle del lavoro pensiamo al re di cittadinanza non si possono avere tutto e subito ecco questa è la domanda da cui voglio partire ma innanzitutto diciamo appunto il tutto e subito come il presente per il presente nella politica diciamo che è complicato e irrealistico è vero anche però che non si può dire giudicatemi tra cinque anni come a dire se una legge è contro i lavoratori o abbassa le tutele o comunque riduce i salari e i diritti si sa come si sapeva per il jobs act il pacchetto treo e quant'altro l'abbiamo sempre detto e poi infatti gli effetti diciamo sono risultati perché poi si gioca con la vita delle persone delle famiglie quindi rimettere poi in sesto e sradicare certe leggi che significano anche dei rapporti istituzionali dentro e fuori il mondo del lavoro dei lavoratori nella società non è così semplice appunto non può essere fatto poi in una settimana è vero che però appunto non so bene sui sondaggi ma la risposta il problema non è la guida politica mi convince nella misura in cui io ovviamente senza sapere cosa c'è dietro penso il problema è la linea politica cioè decidere se decidiamo che siamo contro il lavoro povero e allora si fa un salario minimo legale fatto bene che dia libertà perché alla fine non ci può essere sicurezza sociale senza una libertà economica e questa è una cosa per esempio che al contrario Salvini fa invece di mettere al centro i lavoratori mette al centro le imprese dicendo vi libero dallo Stato dalle tasse e da tutti gli orpelli dei diritti dei lavoratori quindi lui fa una politica fa una scelta di campo sul lavoro e sui rapporti di forza tra lavoratori e datori di lavoro e imprese bisogna capire quale sarà adesso la scelta di Maio che in realtà del Movimento 5 Stelle se voglio essere anche appunto in contemporanea alle scelte collegiali e quella che sarà la guida futura e su questo si gioca la partita col PD perché adesso anche il PD deve scegliere se rimane un partito di centrodestra liberale in campo economico o se adesso sfida perché la partita non è il sovranismo alla fine Salvini di sovranismo dal punto di vista economico non ha avuto niente diciamoci quello è il liberismo puro quindi la partita si gioca sul tema della linea politica economica e allora non è soltanto la nazionalizzazione di autostrade che ne facciamo del diritto alla mobilità e di tutte le infrastrutture piccole infrastrutture tipo le ferrovie questi sono temi che toccano come dire la vita quotidiana delle persone diciamo che il voler essere post ideologici e dire posso andare con la Lega o col PD indifferentemente purché riesco a realizzare i miei obiettivi comporta questi rischi cioè che poi non c'è una linea politica netta questo sta dicendo Marta Fara c'è una linea politica netta e soprattutto non si contende per esempio al PD di scegliere che vuole far da grande perché finora alla fine la linea politica se pensiamo al lavoro e le riforme del lavoro e l'escurso non è che sono diverse da quelle che ha fatto il centro-destra negli anni precedenti e in qualche modo non dico che si sovrappongono ma sono in parallelo a quelle della Lega allora dico due cose adesso poi vado alla replica di Galli che credo volesse dire qualcosa sulla prescrizione sulla giustizia ma insomma al di là di questo facciamo vedere il cartello numero 2 tra vicenda ma di questa anche si parla si è molto parlato si parla e se ne parlerà molto ha fatto bene Salvini a chiedere di essere processato per la vicenda della nave Gregoretti vediamo le risposte diciamo la percentuale maggiore Gianluca Borrelli dice sì ha fatto bene perché cosa? ha fatto bene perché dimostra l'ipocrisia della maggioranza in questo caso perché prima dicevano fatti processare sei un vigliacco eccetera adesso lui accetta di farsi processare e quindi in questo modo li smaschera però in realtà va detto che questo sondaggio in realtà ripercorre moltissimo quello che è la forza delle due coalizioni se vogliamo in questo momento infatti al di là di quelli che sono i non so e quelli che diciamo attribuiscono ad entrambi gli schieramenti un comportamento poco serio si vede una differenza tra le due coalizioni che poi è quella che si vede anche nell'intenzione di voto cioè perché il 43% ha detto no è solo una sceneggiata di Salvini la maggioranza fa bene a non volerne fare un mar le risposte sono estremamente partigiane in questo momento quindi quelli che tenderebbero a votare il centrodestra diciamo sostengono che Salvini abbia fatto bene e sostengono la scelta di Salvini quelli che tenderebbero a votare centrosinistra dicono dando la seconda risposta e poi ci sta una quota di persone un po' tra gli indecisi un po' che si dividono tra le due coalizioni che dicono che entrambe le coalizioni si sono comportate in modo poco serio si dice un refuso si sono comportati in modo poco serio allora fatemi sentire prima di andare in pubblicità Galli su questa molto velocemente rispetto alla mia poco lucida analisi di prima allora sulla questione della prescrizione ricordo che doveva essere all'interno di un pacchetto di riforma totale soprattutto del procedimento penale che invece non è stato fatto e quindi ha cambiato totalmente la cosa piuttosto il PD che aveva votato contro prima adesso sostanzialmente la sta accettando e sulla questione del 5 Stelle raccolgo un po' diciamo una sintesi delle cose dette nei 14 mesi con la Lega ha perso consenso se è di fatto dimezzato per il semplice fatto che alla prova del governo l'elettorato i cittadini poi hanno sicuramente preferito la linea con le indicazioni politiche precise della Lega rispetto a quelle del 5 Stelle però non dimentichiamo che il 5 Stelle mi rivolgo la dottoressa Fana il 5 Stelle con noi comunque aumenti di tasse non ne aveva fatte il reddito di cittadinanza l'ha fatto una serie di interventi sociali li stava facendo mi pare che è col PD che non riesce più a fare queste cose quindi mi pare che aveva molta più libertà di azione sulle cose utili per il paese con noi che non in questo governo no no ma questo dibattito ci aiuta pure a capire perché c'è chi dice appunto il PD si sta grillizzando e qualcuno dice il contrario il Movimento 5 Stelle una grande parte invece ormai vorrebbe un rapporto duraturo ma siccome i numeri sono numeri i numeri sono numeri con voi la decrescita è avvenuta perché l'Italia non cresceva il PIL era a zero e le tasse sono aumentate come il vostro governo non con il precedente come il vostro ma questi sono dei numeri non sono aumentate le tasse incontrovertibile le tasse sono aumentate durante il vostro governo punto Enrica per fortuna noi abbiamo evitato l'IVA voi confondete il gettito con le tasse ditemi un aliquota che è aumentata dopo di che vi dico se le tasse sono aumentate allora dimmene una che è aumentata un tweet di Marta parla che è aumentata in realtà avete creato esteso una flat tax alle partite IVA senza invece capire che c'era un impoverimento secco e che poi si riallaccia al tema sì del gettito perché come la finanziamo la sanità nel momento in cui voi non avete fatto deficit di fatto rimanendo dentro i parametri la compatibilità che invece avete sempre rimproverato agli altri governi perché secondo me questo è un tema sì buongiorno oggi la carta inglese ci pone in una zona che dovrebbe essere piuttosto tranquilla sapete quella ricorderete quella regola non scritta ma guardate sull'Atlantico che traffico di linee fra le linee dei fronti le linee delle isobare lì c'è un tempo molto perturbato sull'Italia di linee ce ne sono poche si trova in una zona di pressione neanche troppo bassa anzi siamo intorno ai 1022 c'è però questa linea nera la linea nera è una linea di instabilità significa che in questa zona di pressione medio alta ci sono delle infiltrazioni di aria umida e instabile gli effetti sono questi la previsione per la giornata di oggi vede dalla parte diciamo di pianura praticamente del nord a tutto il centro e si affaccia al sud una zona in cui sono previste delle piogge deboli colore verde ma localmente anche moderate questa situazione evolve diciamo abbastanza rapidamente perché nella giornata di domani tutto si sposta verso sud migliora su gran parte del centro al sud piogge deboli o moderate quelle forti in giallo vedete sono al di là dell'adriatico e infine nella giornata di lunedì rimane qualche pioggia fra Calabria e Sicilia qualche zona di piogge molto deboli fra Liguria e Toscana e poi vedete il grigio di qualche nuvola però è l'alta pressione invernale che spesso è grigia non è tutto tutto sole però tutto si risolve abbastanza rapidamente volevo ricordarvi una campagna molto importante che è quella che riguarda la fondazione Humanitas per la ricerca e la ricerca questa campagna è mirata alla ricerca per contrastare il tumore al pancreas che è molto aggressivo che risponde poco alle terapie l'unica arma di difesa ovviamente è la ricerca se vogliamo aiutare la fondazione Humanitas un sms al 45592 o da fisso allo stesso numero se volete perché si può offrire qualcosa di più oppure potete fare ovviamente due o tre sms al 45592 quello che possiamo fare aiuta e l'aiuto in questi casi serve serve moltissimo grazie un sogno un'utopia o forse un obiettivo ancora lontano quello del rapporto 1 a 10 era la soglia massima la regola morale di Adriano Olivetti sulla differenza di stipendio tra un dirigente anche il più alto ed un operaio o uno scere della sua azienda nel neoliberismo che Adriano Olivetti non fece in tempo a vedere perché il neoliberismo ha stressato invece le differenze tra ricchi e poveri dando per scontato che se il ricco diventa più ricco spende di più e questa ricchezza a poco a poco sgocciola verso il basso un sogno infranto quindi se oggi stando ai numeri di Mediobanca un amministratore delegato può arrivare a guadagnare in casi limite fino a 114 volte lo stipendio di un suo dipendente per non parlare dei supermanager milionari che hanno bonus e benefit che fanno lievitare i loro guadagni anche se magari non hanno prodotto risultati brillanti per le proprie aziende la buona notizia è che in tutto il mondo una persona ogni due giorni è ammessa nell'Olimpo dei Paperoni dove si entra solo con un reddito superiore al miliardo all'anno ma l'altra faccia della medaglia è che il povero diventa sempre più povero visto che la ricchezza netta della metà più povera del mondo è già diminuita dell'11% insomma numeri che certificano le diseguaglianze crescenti le conseguenze sociali per ora sono semplicemente che il povero crepa e il ricco naturalmente vive da ricco e non c'è un Marx dietro i poveri la storia ci dice che il povero non si ribella a meno che non ci sia alle spalle del povero una qualche ideologia forte diffusa da intellettuali di alta qualità soluzioni certe non ce ne sono per alcuni bisognerebbe allargare il welfare e rafforzare le misure assistenziali per le fasce più deboli per altri bisognerebbe tassare i patrimoni o innalzare le tasse sui redditi più alti il paese più ricco del mondo cioè gli Stati Uniti hanno 40 milioni di poveri assoluti quindi non è un problema di ricchezza di produzione di ricchezza è un problema di distribuzione della ricchezza e chi ha la ricchezza non la distribuisce a meno che non sia costretto a farlo e allora il divario tra ricchi e poveri nel mondo l'1% più ricco detiene più del doppio della ricchezza di quasi 7 miliardi di persone ecco non c'è bisogno di molti commenti 2.153 miliardari detengono più ricchezza di 4,6 miliardi di persone e questo diciamo è il dato globale poi adesso discuteremo di questo vediamo la situazione in Italia che ci interessa molto da vicino sempre fonte Oxfam distribuzione di ricchi e poveri in Italia al 2019 quindi fotografata praticamente a qualche mese fa ecco non è molto difficile da leggere da interpretare questo grafico nel senso che il 20% più povero della popolazione più povera detiene l'1,3% delle ricchezze andando avanti il 40% più povero diciamo in condizioni migliori di quel 20% di prima detiene il 12% il 20% successivo detiene quasi il 17% e il 20% più ricco l'ultima riga detiene quasi il 70% della ricchezza e però nel cartello successivo notiamo una cosa che non è di poco conto e il divario tra ricchi e poveri in Italia tra il 2000 e il 2019 cioè in 20 anni sono dati in percentuali la fonte Oxman come vedete la linea quella superiore è la quota dei più ricchi e quella inferiore mi pare in quel verde chiaro riguarda i più poveri ebbene se voi seguite le due linee in verità si sta restringendo di molto poco questo divario la divaricazione maggiore la troviamo sotto ci sono gli anni indicata nel 2016 quindi poi al di là dei titoli evidentemente le diseguaglianze parliamo dell'Italia in questo caso crescono ma tendono per poche cifre per poco piano piano stanno restringendosi allora voglio ripartire da De Nicola allora De Nicola c'è stata anche molta polemica come c'è tutti gli anni quando l'Oxman pubblica questo rapporto io ho letto un pezzo molto istruttivo mettiamola così informato l'altro giorno sul foglio dove si dice attenzione ma Oxfam prende i dati da uno studio del Credit Suisse allora dovrebbe dirla tutta e insomma c'è tutta un'analisi che riguarda anche gli indicatori che Oxfam adopera per calcolare questi dati allora intanto voglio sapere il suo punto di vista le diseguaglianze aumentano o non aumentano nel mondo allora le diseguaglianze nel mondo sicuramente diminuiscono l'indice Gini che è quello che misura le diseguaglianze è in diminuzione negli ultimi vent'anni sempre negli ultimi vent'anni la quota di ricchezza scusi De Nicola mi perdoni no perché non tutti lo sanno che cos'è l'indice Gini è un indice statistico che misura le diseguaglianze di reddito uno vuol dire che c'è massima diseguaglianza nel senso che una persona possiede il 100% zero vuol dire che c'è zero diseguaglianza nel senso che tutti hanno lo stesso allora questo diminuisce nel mondo il 90% più povero nel 2000 aveva il 10% della ricchezza adesso ha il 19% della ricchezza poi naturalmente a seconda di come la si pensa può sembrare lo stesso troppo poco o molto però la tendenza è chiarissima in Italia sempre questo indice Gini è più egalitario non solo della Germania e dell'Inghilterra ma anche delle socialdemocrazie svedesi nordiche in Svezia e in Finlandia l'indice è più divaricato questi sono tutti i dati perché bisogna attribuire dare onore al merito lei li ha citati prima che hanno inserito i miei due giovani amici Carlo Stagnaro e Luciano Capone che hanno fatto la ricerca molto molto accurata in generale quello che si può dire è che le diseguaglianze sono di molto diminuite perché sono di molto diminuite perché in tutto il mondo basta vedere gli indici anche della banca mondiale sulle persone che vivono con meno di due dollari al giorno che è la povertà assoluta proprio sono diminuite di miliardi nel corso degli anni di miliardi pur essendo la popolazione aumentata quindi io non sto dicendo che non sia un problema la diseguaglianza non sto dicendo che non ci sia molta diseguaglianza ma se uno deve vedere come è giusto vedere sempre non la fotografia ma il cinema il cinema dice che la globalizzazione famosa ha aumentato moltissimo le chance di vita di tutti quanti qual è il problema dell'Italia e qui finisco il problema dell'Italia è la scarsa mobilità sociale allora ho bisogno di coinvolgere Diego Fusaro che è al suo fianco perché lei diceva la globalizzazione che è diventata diciamo il nuovo nemico da combattere non ha fatto poi così male allora come la si descrive dipende dal punto di vista da cui la si osserva se la si guarda dai piani alti di coloro i quali beneficiano della globalizzazione è l'ottava maraviglia se invece la si guarda dal piano peraltro popolosissimo basso di chi la subisce è la globalizzazione come l'ho definita di quanti scontano sulla loro carne viva le contraddizioni il fatto che alcuni abbiano sempre più e altri abbiano sempre meno voglio dire non sono due cose sconnesse fra loro essendo che il capitale non è una cosa ma una relazione sociale se c'è chi ha tanto c'è per conseguenza chi ha poco e se qualcuno ha sempre più vi è qualcuno che ha sempre meno questo è il rapporto della globalizzazione appunto che è qualcosa che contraddice non soltanto il concetto di ragione ma l'intera tradizione occidentale per non dimenticare però quali sono le contraddizioni reali della globalizzazione anche se vista dal basso perché questo sistema iniquo che contraddice all'idea stessa di ragione e di umanità paradossalmente viene accettato in mancanza a di una prospettiva di alternativa di un'ulteriorità nobilitante in nome della quale rivoltarsi rispetto a questa concretissima iniquità chiamata capitalismo e b manca lo strumento con cui nel novecento si sono tenuti a freno le disuguaglianze che si chiamava stato nazionale sovrano fonte di welfarismo di new deal di diritti sociali è chiaro che ai piani alti mirano a distruggere lo stato sovrano nazionale dicendovi che è fascista e stalinista l'obiettivo non è quello di cacciare lo stalinismo e il nazismo che non ci sono più l'obiettivo è quello di spazzare via i diritti sociali e la possibilità di un welfarismo di un keynesismo che contenga le disuguaglianze sociali quindi oggi un progetto socialista dovrà ripartire necessariamente dalla sovranità nazionale e dallo stato ce l'ha insegnato Keynes oltretutto quindi stato nazionale come base della democrazia voglio coinvolgere il segretario Capone lei peraltro ha scritto tempo fa questo libro Popul Economy vediamo dal tema generale di scendere un po' più a cose concrete oggi c'è un grandissimo problema per esempio che anche chi lavora può essere a ridosso della soglia di povertà se non povero assolutamente 17 milioni di poveri relativi coloro che non riescono pur avendo un lavoro ad affrontare una spesa straordinaria nell'arco dell'anno di 800 euro questo è il povero relativo 17 milioni di persone che una volta facevano parte al netto della categoria dei poveri 4 milioni circa in Italia dei poveri assoluti per fragilità per difficoltà di entrata per non accesso agli strumenti anche di ingresso al lavoro e alla crescita quelle persone erano quelle che una volta con le loro tasse pagavano buona parte del welfare nel sistema come giustamente dice Fusaro mi trova perfettamente d'accordo in un sistema sovrano nazionale pagavano le tasse e pagavano una parte di queste tasse andavano in previdenza in servizi per la comunità e in buona parte anche per il sostegno delle categorie più svantaggiate noi stiamo perdendo la classe di mezzo quindi indipendentemente da quelli che poi sono i dati uno contrario dell'altro quelli che abbiamo sentito quindi è inutile andarci a così addentrare nella veridicità del dato dell'uno o dell'altra o dell'altra teoria in realtà quello che registriamo è questo i 17 milioni di poveri relativi ci stanno e non si discute a lei che fa il sindacalista è sindacalista diciamo di centro di destra la meritocrazia è stato sempre un valore o almeno così io negli anni mi ho imparato un valore diciamo molto sostenuto dalla destra allora le chiedo ma quando c'è una differenza di stipendio come sentivamo prima ma ci sono manager che guadagnano milioni a fronte magari di mille 1200 euro che guadagna l'operaio di quella stessa azienda di quello stesso gruppo lei lo trova scandaloso o chi porta profitto porta business fa funzionare per un'azienda che ha grandi responsabilità è giusto che guadagni delle cifre anche stratosferiche è giusto che guadagni sicuramente di più perché ha delle responsabilità diverse e ha delle responsabilità più grandi è assolutamente ingiusto che quello che è il plus valore rispetto al prodotto definito il prodotto servizio finito il plus valore va diviso tra quello che deve retribuire il capitale quello che deve essere la retribuzione del manager e quello che deve essere anche la retribuzione aggiuntiva dei lavoratori perché il super manager senza lavoratori coscienziosi senza lavoratori che impiegano non soltanto le loro otto ore di lavoro ma il loro cuore la loro passione la loro giornata la loro vita non va da nessuna parte la cosa più scandalosa però se mi consente con un'ultima battuta è che quelli che arrivano anche manager che arrivano anche a quei livelli scandalosi soprattutto se sono manager pubblici e non raggiungono i risultati non pagano pegno ci racconta di liquidazioni milionarie voglio sentire su questo Olivero Toscani cosa pensa della meritocrazia dei super stipendi dei tetti agli stipendi che molti propongono che pensa? devo dire che è abbastanza scandaloso no ma vorrei tornare siamo uno strano paese noi prendiamo l'esempio di Adriano Olivetti che morì nel 61 ma è possibile che un paese come l'Italia non è riuscito ad avere un imprenditore una società o qualcosa meglio di Olivetti è incredibile non abbiamo fatto nessun progresso cosa è successo? non siamo bravi io credo che è scandaloso e soprattutto è vergognoso vedere con i dati che ci state facendo vedere quanto incivili siamo ancora siamo è una questione di civiltà umana di umanità proprio noi stiamo parlando di cifre di cose secondo me non è vero che si sono avvicinati i ricchi ai poveri anzi sono sempre più distanti a livello culturale a livello umano a livello esistenziale a livello di gratificazione di essere vivi allora questa è la vera differenza che non riusciamo a colmare ecco l'umanità è sempre più divisa staccata differente da chi può e da chi non ha nulla e chi non ha nulla diventa sempre più povero e per di più la tecnologia non aiuta assolutamente chi è online chi è in rete ha delle possibilità in rete nel modo che dà dei frutti è molto più avvantaggiato di chi non lo è allora attenzione qui siamo veramente degli egoisti noi per primi qui a discutere di soldi quando dovremmo discutere qualcosa d'altro eh vabbè volti c'è una parola che si chiama redistribuzione non lo so poi ognuno la può coniugare come crede guardo Dino Pesole no ecco prima De Nicola diceva in Italia poi abbiamo un problema in più che abbiamo una scuola che non aiuta e un'economia che è molto corporativa diceva prima eh certamente è corretto direi che nel nostro dibattito dobbiamo aggiungere almeno per quanto riguarda l'Italia altri elementi quali che sono sostanzialmente questi il fatto che l'economia italiana ha subito una contrazione del PIL negli anni della crisi pari a circa 9 punti questo ha determinato un impatto devastante dal punto di vista dell'occupazione e questo è un problema perché è la contrazione più violenta che noi abbiamo subito in tempo di pace quindi di questo dobbiamo renderci conto accanto a questo già prima della grande crisi del 2008 l'Italia cresceva quasi niente crescevamo circa un punto e mezzo al di sotto della media europea abbiamo un problema di bassa produttività ecco che deriva sapevo che prima poi sarebbe venuta fuori la produttività perché se parliamo di diseguaglianze e di divergenze salariali questo è un punto decisivo e da cosa deriva tutto ciò deriva dal fatto appunto che abbiamo un sistema di istruzione che è insufficiente una pubblica amministrazione pletorica inefficiente un sistema fiscale che è quello che conosciamo tutti la burocrazia ecco allora se non si mette retributivo molto bloccato su un contratto che non dà spazio noi abbiamo avuto oltre all'impoverimento collettivo del nostro paese e all'arricchimento di fasce limitate di reddito abbiamo avuto un problema e continuiamo a avere un problema sul ceto medio che non a caso è quello che è maggiormente insoddisfatto e alcuni analisti e studiosi nella letteratura economica a livello globale ed europeo interpretano questo dato come un dato che favorisce l'affermarsi dei sovranismi perché nel momento in cui tu soffri ceto medio ti affidi a delle ricette che sono più immediatamente come dire di pancia quelle che ti risolvono i problemi quindi dobbiamo tener conto di questo c'è stato un primo livello della globalizzazione con questo sono d'accordo De Nicola molto positivo perché è aperto al mercato intere zone del mondo che prima non c'erano successivamente però è sofferto una seconda fase la seconda fase che è quella dell'eccesso della finanza ha creato tutto questo